Il mondo è bello e vario, ora anche l'economia illecita rientra nel PIL, il prodotto interno lordo di una nazione. A dirlo uno studio a cura di CGA, Associazione Artigiani di Mestre, che rileva come una società sommersa corrispondente alla denominazione mafia, SBA, è un'espressione ufficiosa, non ufficiale ci mancherebbe, conti un volume d'affari stimato in circa 40 miliardi di euro, miliardi abbiamo detto, capace dunque di un peso inferiore soltanto a colossi come Eni ed Enel. Il paradosso di partenza risulta sconcertante, ci affanniamo ad indignarci per quello che la criminalità organizzata, chiamiamola così, rappresenta nella storia e nella produttività del paese e poi a pieno titolo c'è addirittura l'Unione Europea che tra le voci economiche introduce prostituzione, traffico di droga e contrabbando di sigarette, per dirla con il giornalista Roberto Saviano, non chiamiamola più antistato ma altro stato senza scandalizzarci, se ogni tanto politici e amministratori finiscono in inchieste per mafia. La cosiddetta economia reale è anche questa, quasi 17 miliardi e mezzo di euro, circa un punto di pilla, a gonfiare pure la ricchezza tricolore. Storicamente nata al sud la piovra, come si definiva pittorescamente ma efficacemente, negli anni 70 e 80 del 900 ha indossato i classici colletti bianchi e si è insinuata nella pubblica amministrazione e nell'imprenditoria anche di centro e nord Italia, emblematici i recenti casi veneziani e veronesi, dove la contingenza quotidiana è diventata insostenibile e i flussi di denaro riciclato hanno costituito benzina ideale per motori potenti ma a corto di carburante. I numeri, per ulteriore paradosso, non sono neppure quelli stimati ufficialmente perché il sommerso del sommerso del giro di affari criminoso porterebbe con assoluta probabilità a cifre ulteriormente spaventose. Lo studio di CGIA, consultabile online, riporta tabelle statistiche molto interessanti che al di là del valore economico-sociale dicono una cosa estremamente chiara. Qualunque territorio, tanto più se caratterizzato da numeri importanti di denunce per estorsione, racket, usura, lavoro nero, scommesse clandestine, gestione illecita del ciclo di rifiuti, non può sottrarsi a una minaccia reale, tangibile e ormai contingente. Per questo la scuola e le istituzioni non solo devono fornire l'esempio ma anche preoccuparsi di un'educazione alla legalità dei più giovani che li consapevolizzi come si fa portando un ragazzo o una ragazza a vedere di persona la carcassa di un'automobile incidentata oppure a visitare un reparto di pneumologia per verificare i danni irreversibili del fumo nell'organismo umano. Da un lato lo Stato combatte e contrasta le mafie, dall'altro riconosce a queste organizzazioni criminali un ruolo attivo di portatori di benessere economico, conteggiando le attività illegali nel PIL. Questo non è eticamente accettabile e anche in Veneto la presenza delle mafie ha prodotto solo ricchezza negativa, frenando lo sviluppo economico, falsando il mercato e anche per questo vanno sradicate ovunque esse si annidino senza riconoscerne il valore economico.